buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione buongiorno ragazzi i bancomatti riportano un cashback 100% finish finish vanish skyco napisad airwick gran 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 prodotto allora su tutta questa gamma noi abbiamo 15 euro di rimborso su 15 euro di acquisto di prodotti allora ricapitoliamo un attimo il tipo di prodotti finish vanish skyco napisad airwick ok perfetto dove bisogna prendere magari se c'è qualche oppure in giro dove nei posti dove è segnalato a volantino ok il lasso di tempo è dal primo al 30 di novembre controlliamo me la sono studiata scrivete qua sotto se vedete magari qualche qualcuno di questi prodotti in super promo in super sconto si 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 c'era qualcosa d'acqua e sapone acqua e sapone acqua e sapone anche il Lidl il volantino del Lidl l'ha tirato fuori ah ecco il volantino del Lidl ecco si 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 beh ora l'hanno visto un po' da tutte le parti ipercop acqua e sapone saponeri adesso in realtà non lo so perchè anche tutto il mio volantino non mi ricordo se c'era vediamo vediamo chi lo sa commenta esatto commentare qua sotto mi accomodano l'importante deve essere a volantino 15 euro di questi prodotti se spendi 17 te ne danno sempre 15 perfetto quindi se ne vuoi spendere di più ogni persona può ricevere solo un accredito da 15 euro entro tre giorni devi mandare devi registrare la procedura che vi lasciamo tutto qua sotto e poi si rende conto che il giorno dell'acquisto equivale al numero 1 altra cosa importante che ripetiamo sempre e poi ci hanno anche commentato mai ripetete le stesse cose sinceramente a me non me ne frega io le ripeto perché se qualcuno che non lo sa guarda questo video sbaglia giustamente poi mi aspetta fuori in casa mi fa la faccia così piena d'esperta questo pensa se prendi 2000 euro di conno a chi è esperto non si offenda noi dobbiamo ripeterle perché se non le ripeto poi mi vengono fatte delle domande quando magari con 10 secondi dovevo ripetere quindi scontrino parlante scontrino parlante significa che i prodotti devono essere menzionati per intero e non siglati con roba così non va bene potete fare il reso acquistatene un'altra parte stavi laggando o non parlate non ne ho parlato poi la procedura va registrata entro tre giorni il giorno di acquisto è il giorno numero uno non contate i lavorativi festivi è il giorno d'acquisto è il numero uno semplice così poi una persona può ricevere solo un rimborso cashback i prodotti gli abbiamo detti il lasso di tempo è dall'1 al 30 di novembre deve essere tutto a volantino basta vi lasciamo sotto il regolamento la bella foto della prova va di fianco e niente scegliete solo quello che vi serve e pace belle cose ok a questo punto mickey io direi comunque se ne raccomandati ciao ragazzi commentare e polliciare commentate facendo seguiteci sui nostri social facebook twitter e instagram continuate a iscrivervi come state facendo anche il nostro canale telecamera grazie a chi ci ha detto la prom devo proprio grazie claudia grazie grazie mille e ha detto devo proprio perché si conoscono un filino un filino un filino si conoscono un filino non è perché per qualcuno devo stare attento a non incontrarle in casa a me trovi la chiave spezzata esatto il calcio sulla porta la sedia inclinata la sedia inclinata un secchio sopra no magari c'è lì non so la cuccia del cane è fuori il cane è tanto poso sul letto e te è fuori e io fuori e provami allora mi raccomando mandateci nei commenti qua sotto hashtag una coperta e chi ha un letto il filo per noi un abbraccio dai mancomati ciao ciao